E adesso non conterò fino a te, e tu ti spegnerai, sarai fresca come rosa e non ricorderai lui. Uno, due, tre! Gelato? E io ho l'intoleranza all'antanio! Scusa, ricordate, io sono Armando! Posso ipnotizzare chiunque e fargli fare qualsiasi cosa stasera! L'opera di Casino Conrad, Jupiter, è orgoglioso di presentare la strupolosa selezione stilistica del solo e unico Scipione! Un sì, in un tentativo disperatamente geniale di far tornare Ursula e Lyle insieme, la nostra suocera Scaltra è smaliziata, ha ingaggiato Armando per ipnotizzare la di lei figlia e farle dimenticare Giorgio. Quando tu sveglierai, il nome di Giorgio della giugna sarà cancellato per sempre da tua memoria. E, scusami tanto, ma c'era una vecchia sulla segna rotella che si era fregata il posto degli handicappati. Sarà come vedere strano, la sua faccia nulla riconoscerà in me, lui non significherà assolutamente nulla per te. Ah sì, Ursula, tuo marito è Lyle Van de Groot. Uno, due, tre. Piccola mia, ci sono voluti due film e un ipnotizzatore cialtrone, ma il lussurioso Lyle Van de Groot ha finalmente realizzato il suo sogno. Ursula è, si fa per dire, sua moglie.